Una versione inedita quella di Maurizio Costanzo, abituato ad intervistare le altre persone, oggi si confida a Quotidiano Nazionale a cuore aperto Un uomo che non lascia mai trasparire nulla ma che fa emozionare gli altri, questo è Maurizio Costanzo in versione, inedita che ha lasciato tutti senza parole Maurizio Costanzo e la malattia.Una vita intensa quella del giornalista che in ogni situazione riesce a scoprire nuovi talenti o a rubare quella privacchi, trasformandola in un racconto inedito Come accennato non è solito parlare di sé, lasciando la sua vita privata fuori dalle scene Questa volta però ha preferito passare da conduttore ad intervistato, grazie ad un'intervista, inedita del Quotidiano Nazionale, che è riuscito alcune cose Costanzo si reputa molto soddisfatto in quanto sono due anni che non si ammala più, non ha ciacchi e qualche patologia da verificare Prima era tutto all'ordine del giorno e risultava molto difficile stare dietro a tutto Maurizio Costanzo e l'amore.Secondo Maurizio la sua vera medicina è l'amore di Maria De Filippi, sua moglie da tantissimi anni che ha pensato per lui una cura fatta di dieta e vita sana Secondo il giornalista, infatti, trovare la persona giusta e l'amore della propria vita giova alla salute con un miglioramento che aumenta di anno in anno Da oltre due anni, conferma, non si ammala più nonostante la sua veneranda età, e si sente sempre più giovane e attivo Merito di sua moglie che con tanto amore e pazienza è riuscita a cambiare quell'uomo, che aveva uno stile di vita non propriamente corretto Grazie per la visione!